C'è qualche imbecille anche da noi che stava preparando la festa di Alway. I portasiccia. Noi sapevamo già da una settimana che alle 23 di venerdì sarebbe scattata la sceneggiata violenta. Si chiude tutto. E così è stato, con una parola d'ordine che è circolata sui social con cui hanno convocato questa manifestazione. Una parola d'ordine di elegante sobrietà. Scassam tut. Si chiude tutto. E così si sono ritrovati. Poi ha visto che alla fine c'è stata anche una festa, un po' di piedigrotta, fugi d'artificio, petardi. Si chiude tutto. A settembre la scuola riparte. Non so come e quando aprirà l'anno scolastico. Di questo esprimiamo prof... Quindi continuiamo a combattere in Campania. Non penso che avremo qualche incidente diplomatico per questa imbecilità che è Alway. I portasiccia. Noi sapevamo già da una settimana che alle 23 di venerdì sarebbe scattata la sceneggiata violenta. Si chiude tutto. E così è stato. Con una parola d'ordine che è circolata sui social con cui hanno convocato questa manifestazione. Una parola d'ordine di elegante sobrietà. Scassam tutta. I portasiccia. E così si sono ritrovati. Poi ha visto che alla fine c'è stata anche una festa, un po' di piedigrotta, fugi d'artificio, petardi. Prevenzione. A settembre la scuola riparte. Non so come quando aprirà l'anno scolastico. Di questo esprimiamo una profonda gratitudine al ministro della pubblica istruzione. Si chiude tutto. A scuola abbiamo un ambiente molto controllato proprio perché abbiamo lavorato tutta l'estate. Sul mondo della scuola io considero sconcertante. Siamo a un passo dal...